bella a tutti ragazzi benvenuti a questo nuovissimo video io sono re claus e oggi siamo qui con un video assurdo assurdo è dir poco raga non sto esagerando come avete visto dal titolo dalla miniatura non è un clickbait ve lo assicuro ho appena scoperto una cosa che molti di voi già sapranno molti di voi avranno già visto molti non ci avranno fatto caso alcuni non hanno visto quindi sono qui per farlo vedere a tutti cosa è successo penso sia un bug non so se sia una cosa voluta perché ai numeri a cui sono riuscito ad arrivare mi sembra davvero strano che la epic abbia concesso tutto ciò quindi vi consiglio subito di sfruttare questa cosa cosa è successo se andiamo nei progetti addirittura quelli bianchi quelli verdi blu pure i progetti bassissimi se li ricicliamo rega ci restituiscono rivantaggi con quest'ultimo aggiornamento quando reciclavamo un progetto a cui avevamo potenziato delle perche eccetera ci andavano a restituire tutto ciò che avevamo speso ma il punto è che questi progetti qui che troviamo solitamente nei mini mini lama 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 plus quello che vogliamo che non abbiamo neanche toccato non si sa perché ci restituiscono anche loro un paio di cose voi direte è ma ci sta dando soltanto 90 di vantaggio stravantaggio non comune 200 che ci fai regà andiamo a riciclarli tutti guardate quanti ne ho io adesso vedrei insieme velocemente regà le cose verdi non servono a nulla a questo gioco sono ai livelli bassi ma neanche io non ho mai craftato nulla di verde quindi regà guardate quanta roba ho pure la roba blu la vado a riciclare tutta tanto tutti i progetti leggendari anzi per questo video regà e reciclerò anche tutte le cose epiche che ho ne ho davvero tante guardate qua siamo già 10.000 stravantaggio raro 10.000 regà continuiamo tutte le cose blu che non servono almeno a noi non servono regà guardate voi stessi quanto sta salendo non so se funziona pure con i progetti che prendere da adesso dai lama eccetera ma sicuramente funziona con i progetti vecchi che avevate se siete stati abbastanza precisi ovviamente intendo dire se avete già pulito tutto quanto e mi dispiace per voi perché se vi tenevate tutto adesso potevate avere tutta questa roba guardate voi stessi continua a riciclare tutto regà guardate guardate siamo già a 20.000 regà 20.000 di stravantaggio raro è tantissimo 15.000 chiavi i rivantaggi sono difficilissimi da ottenere regà e noi grazie a questo trucchetto questo bug non ho ancora capito se è un bug regà non voglio esagerare però guardate voi stessi mi sembra strano che la epic games abbia concesso tutto ciò semplicemente reciclando un paio di progetti io mi sono sistemato a vita perché regà 24.000 di stravantaggio raro anzi 20.000 di non comune è davvero tanta roba è davvero tanta roba ragazzi continuiamo a reciclare tutto mi chiederete perché pure questi progetti viola regà perché ce l'ho tutti i leggendari non ci faccio nulla con questi me li tenevo tanto per quindi guardate continuiamo siamo a 30.000 30.000 regà ok continuiamo 36.000 30.000 di vantaggi un altro po' regà vediamo se ce ne abbiamo ancora tanti di progetti epici ok abbiamo finito i leggendari regà me li tengo magari lo farò dopo per conto mio reciclerò pure quelli che non mi servono mi fermo qua gli epici e guardate voi stessi 40.000 di stravantaggio raro 28.000 non comune 30.000 di vantaggi regà andiamo subito a confermare conferma ed ecco qui regà ed ecco qui andiamo nelle risorse guardate voi stessi 45.000 45.000 37.000 45.000 gg raga gg fatemi sapere qui nei commenti regà se voi pure avevate così tanti progetti da poter riciclare fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti se avete già usufruito di questo bug nulla regà alla prossima bella ciao 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 ciao